Prima la Tunisia per l'incontro con i paesi d'origine dei migranti, poi il vertice con le ONG sul codice di condotta, in mezzo l'incontro a Parigi. Si è aperta una settimana cruciale per il nostro paese sul fronte migranti, sperando che la tregua della partenza della Libia resista e non si apra l'ennesima emergenza. Sul tema dell'immigrazione, Europa e Africa hanno il dovere di lavorare insieme, ha detto il ministro dell'interno Marco Minniti, nel suo intervento alla seconda riunione del gruppo di contatto Africa-Europa. Abbiamo a che fare, ha sottolineato ancora, con un fenomeno epocale che ci ha accompagnato in passato e molto probabilmente ci accompagnerà anche nel futuro. Esso può essere affrontato in maniera utile e definitiva soltanto attraverso una grande cooperazione tra Europa e Africa. L'obiettivo è chiaro, intervenire sui paesi d'origine per fermare le partenze dei migranti che raggiungono la Libia e da lì l'Italia e contrastare le organizzazioni criminali che gestiscono i traffici del deserto. Sul tavolo l'Europa metterà non solo soldi ma anche una serie di interventi per migliorare strumenti e apparecchiature per il controllo delle frontiere. Per quel che concerne invece la condotta, i temi vanno dalla regolamentazione dei segnali luminosi alla trasparenza sui finanziamenti fino all'obbligo di avere tutte le certificazioni di doneità tecniche. Su questo fronte le stesse ONG sono divise tra quelle disposte a trattare con il Ministero e quelle che non vogliono accettare alcun tipo di limitazione. Minniti però è stato chiaro, il Viminale andrà comunque avanti e a chi non firmerà il documento non potrà accedere ai porti italiani.